Per quello che l'ho messo Eh sì Sì infatti Ce la dobbiamo bullare Adesso bullizziamo Dove va lui Con la bull Frasi da 13 minuti Adesso andrà il blu Le l'hai scritto? No ma ti tu adesso che da 13 minuti arriva Sì eh? Quindi riusciamo a fare una partita Anche due Io sono pronta L'ora hanno qualcuno che grabba? No No Leona però lei non è esattamente la quinta cosa Eh infatti La giustizia ci guida Trenta secondi alla generazione No abbiamo la vita totale Evitiamo di failare subito la bot Così magari Ma la gente Non dobbiamo fare cose tristime o note Ma cose divertenti Guarda la mia giusta Quello è un pochetto di assaport che avrò Quello sarà il mio pochetto di assaport che avrò Le ward le devi inventare Ho fatto proprio dal gioco Sì 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 perché ha Oh cazzo 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 Ok sono morti Vencati male Ho usato un flash comunque Caso Eh sì ci sta Non lo uso nel primo minuto non c'è gusto Devo andare anch'io? Eh andiamo noi Andiamo Beh Che c'era per l'eserterza oltre Evelyn? Tutti Ah tutti? Bastardi Non sono riuscito a usare Cazzo Speravo di riuscire a fargli Si raggono Ma sono per me i minion? Eh ma perché stavano andati da mano ma ha detto Oh no E quindi Oh ragazzi questi sono pro Questi girano Fanno cose Ti ricordo l'ultima volta che una coppia Cioè hanno fatto Si lo so L'abbiamo vinto così Poi le abbiamo vinte di brutto Però non si sa mai Fidati Magari sono pre-media e basta Oh guarda che c'è Katrin Il nostro giangelo del gol che muore È porco dici Minchia Chiudi il video Avortiamo Lasciamo Chiude il video Non sa da fare Qui sono tornati Si adesso sono tutti in lane Io sono Sono al 2 Perché sono al 2 E tu no Eh che cagli Il nostro giangler Non esiterò Sono tutti in lane ragazzi Qui si Il tuo Ah già Noiosa Palaffanculo Preso Arachiri C'è il nostro giangelo che invade C'è nel senso C'è morto Però invade Beh ma lui è invade Ma questa temeriarità Lui sì che è un pro Si vede che è un gold Non mi manca il coraggio Taviatà Oh grazie Fatta apposta Mi serviva un po' di gold Ah Guardate le via Tortiamo il fatto che siamo a doppio range Io so già che Eveline passerà Mi farà tantissimo male Passerà anche qua Uh Vai che non c'è ancora la trappola Ma siamo una squadra Late game ragazzi Si dice sempre così Quando i primi 5 Esatto Mi fanno cagare Non c'entri nel brasse Non c'entri nel brasse Non c'entri nel brasse Attenzione pericola alle falle Mumu ha spiegato qualcosa Mumu è gold Seguite cosa dice Shit Fuck you Shit Nastuno Nastuno Vai Scappa Vai Quindi così Figa è andata benissimo Eh Lo so Sono un support Tra virgolette Ma Controcazzi Leona ha ricallato Probabilmente Io guardo nel brasse Si Prevento Che fai strano No non ha Non ha ricallato Leona No ma dov'è il jungle Eh Non so Non so Non so Eh lo so Mi la faccio un attimo E' il piacere della scoperta Faccio una cosa io Metto la trappola lì Chiamolo Piacere della scoperta Non si torna indietro Oh Ispirato Ah guarda Esiterò Le si cansa For vero Le si che sa giocare Eh si Ma Leona si è fatta quasi ammazzare Prima Con precisione Manca la mid Ok Eh da fare male Arreteiamo Arreteiamo Lo sapevo già Luca Tranquillo Leona non ha ancora provato a fare un gank Una presa Una presa intendo Perché sta ammazzando lo scudo Ah giusto Per fare un mega inizio Ah Sarasam Tiri di Ma che dice Aia Guarda che siamo un mega inizio Guarda che siamo un mega inizio Io sono pronto Eh ce l'ho Ok ce l'ho Ok ce l'ho inizio Esattamente guardate in quel momento quel bravo No non mi seguo più guardiamoci inizio La giustizia ci guida Però mettiamo installo che è un piacere Sì Sì Finché metto i missili di Gink Tu sei intoccato Guarda Vaffanculo Li ho riusciati tutti Io sono pronta Beh è ancora qua oppure se n'è andata Eh o è... Penso se n'è andata perché Usa se s'è accampata Eh vabbè se s'è accampata è meglio per noi perché sta perdendo Cioè perde esperienza Temo Sì La guarda è sparita eh Attento Sì Fazzigliato E' tu? Sì Sì Ti scopri Sì Non mi sono niente Olè Avrei avuto fortuna con la super Avrei avuto fortuna Una kill a fortuna Sicuro Sige sempre così Tu dici sempre così Sei al 6 Cazzo Sono sempre quello più indietro di È mid È mid Oh io Io sono al 6 è vero E tutti sono al 6 Ma non le comprate le rune dell'esperienza? Vaffanculo Io ne ho 3 tra quinta e senza proprio Le quinta e senza proprio Oh finalmente Attacca a gancare va Avanti 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 Che belle trappole che hai Hai visto? Hai visto? Sono trappole tattiche Se le prende dire una però Se le impatta Ho metto uguale 3 minuti nel braccio Aspetta Ok Ma poi moriranno di noia Ah Counter giungla No attenti alla nostra mumu mumu che faccia cosa con È pazzo 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 ho capito Ok ho capito È scaldato È morto Ho capito che fa il coglione Ok Evelino Visto 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 Cavolo 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 Non ho più il mana Non ho più mano Una parte dentro una parte dentro che Ah niente Io ho messo già una linda 3 minuti Ok Devo andare Non mi fa la torre Ma porca troia Presa Tu l'hai preso Con quello grosso Guarda lì ora quanto ha poco Eh lo so ma mi volevo fare tipo La Q e poi l'ultimate Se riesco ad avvicinarmi abbastanza Si mette davanti tanto Eh si ma si piglia una bella foto eh Portiamo poco pure l'altra E finiti si mette davanti more Eh infatti È quello che è Ma ora ti sparo una Q di quelle che te la suoni La giustizia ci guida Beh Leona si butterà un po' meno mi sa eh Se non viene Evelyn Lui l'ho preso in pieno Pula Evelyn Siamo qua Certo Mi costringeremo al minore poi Si Ma porco cane ma Presa 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 sempre leona prendo Prova prendo No no va bene va bene Una dei due va bene no Uh attento Visto Non ho cooldown Sarò failata io Failata Proprio male Beh sono a poca vita entrambi eh Si 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 Ma questa volta avevo Mancato di office Ah e Ma che Ah Ma quanto hai fatto se te lo mi ricordavo Anche cosa Io ora sei ha preso un altro Oh Aspetta che ho messo Noo Deasevely Che è che è ucciso? Presa! Presa, va? Leona becca ogni volta. Sempre l'epoca. E' un po' più brava James a schivare. Perché mi sta scrivendo il skype? Stana fra... Cocane! No, te la fai. Riesci... Ok, fatti che... Presa! E ora, sono senza mana. L'ammazzo io, va bene. Ah! Guarda quanto gli tolgo! Ma che ucciso! Ti ha sparato la super tipo un centimetro. Eh, l'ho provato a proteggere la torre. Arrivo. Ho finito tutto. Dai, a pochissimo entrambi. Ma che palla! Ah no, c'era Mumu qui che... Vabbè. Mumu, vai da! Altre parti! Se non può. Mumu le fissi dà! L'arriva a botto! Dai 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 che Jin ci casca! Jin ci casca! Eh, basta! C'è Mumu però! Non esiterò! Dobbiasi! Dai Mumu! Vai a Mumu! Uccidi! Nooo! Mumu! Sono out of range io! Pusciamo! Ah, Drago! 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 Voglio prendere! Io ne calmo ragazzi, scusate! Io voglio prendere! Sì 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 sì! Aspetta che... Pusciate! Drago! Drago! Davide! Attivo! Ammazzate i cosi! Fatto! Io sono pronto! Però li ho missato! Mi sarei più spare power, ecco perché! Eh? Mi sarei più spare power! Mi sarei più spare power! Sto Mumu! Ho detto che non l'ho vero! Nel quarto! Sì sì sì! La determinazione non più non c'è sconfitto! Il Drago è andato? Eh? Sì Drago sì! Perché è ignara al 10? Vabbè sì! Sì! Oh cavolo! No 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 no! Non ho! Un allenato è stato ucciso! Sarà un gol! Sarà una mano? Però... Ma serve una mano mid? No! Non serve! C'era Evelynn! Io sono pronta! Ho giocato! Avevo mana per combattere e ci siamo... Eh! Ah! Ah ok! Però le ward! Giusto perché sei tu! Sempre aspettarsi Evelynn! Uh! Sara si ricorda come si usa i reni adesso! Vai! Vieni se ne devi auto-off! No no! Mi sa che hanno switchato perché... Mi sa che hanno switchato perché... Che è successo? Il missile! Il missile! No è qua Jinx! Ah! Perchè cazzo? È stato bellissimo! Ma sei morto o sei io? È morto! È morto! No no è morto! Ma che male che mi fa però! Eh ha comprato gli oggetti! E anche io! Ho visto solo arrivare! Io che cazzo ho comprato? Un figo! I coriandoli! Sì! Sì! Risin! Mamma! Oh! Eevee bot! Mi sa eh! Uh! Uh! Me ne boh! Si sente una mancanza di rune qua! Mi riesco a tenerlo tranquillo! Sì! Guarda! È giù di vita! Si è ripigliata adesso! Sta venendo giù forse coso eh! Sta venendo giù... Ah sì! Mi ha roccio! Sì sì! L'ho visto visto! Sì! Giù da mezz'ora! C'è anche Evelyn! Sì! Cavolo aiuto! Mi ha preso! Sono morto! Ho flashato malissimo! Sono morto! No! Luca! Perché Evelyn è un gold? No! Sei confuso! Eh sì! 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 Malissimo! È una madonna! La determinazione non conosce scopi! Proprio! Sì! Sono primate abbastanza malissimo! È un po' piso! Sì! Sì! È un po' piso! È un po' piso! Sì! 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 Arrivano buffi qua! F***! 3 kill quell'altra! Gnaro si vede 3 kill! Eh! 3 kill Gnaro e 3 kill Jinx! Sì! 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 Dai! Ata che mi ti faccio sotto torre! Puzana! Non vincere! Sì! Che bello! Scappolo di conto a me! Ma cosa c'è? Sì! 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 Gnaro è più bravo! Comunque! Fare troppo lozze! Prevede i movimenti! Queste cose qua! Sì! Ma comunque! Vedi quella vita lì che mi ha tolto! Sono due zap! Ah! Ma che c'è? Sai quanto? Eh! Ma devo sempre prendermi lì! Fottiti! Ok! Devo ricallare! Dopo la cura! Eh! Vai! Sto io sotto torno! Non esiterò! Tento! Sì! Sì! Che male! Quanto ci vuole la cura! Noi bestia! Tornando in botto a fare il gank! Però hai seguito da più il nemico è stato! Beh dai! Non ti ha rubato la tele almeno! Doppio uccisione! Oh! Bella questa! Almeno ti stai giocando! Occhio di arni! Ho visto! 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 Ucciso! Bestia! Via ragazzi! keep Trust! Eh eh! Eu... ferrymboomoro è ver di contre! No, sono morto! Ho sbagliato anche i… Elrout e vaffanculo in senhor! Eh, io ce ho provato a uscirne ma... è andata male! Dai, io mi sto beccando doppio stun Indeciso, ho sbagliato Leona me l'ha fatto oltre la parete, poi mi ha stunnato lego, la super Non è che sta andando proprio benissimo, eh? Io spunta ancora sulla top, però vabbè È l'unica lane che sta andando bene Da Mumu, basta Vai Carlo, che termini Sono tornati subito io E il Drago comincia Eh sì, adesso andiamo Eh vanno anche loro, mi sa Vedete una Vard o qualcosa Eh arrivo, ce ne ho quattro Poi la Torre invece Si fanno la Torre E se la fanno in un'altra parte Se la fanno anche Pure Easy, tra l'altro E poi vanno dal Drago, mi sa Drago, Drago, Drago Si si si, sono andando dal Drago Alcuno mette una Vard che ho ruta Arrivo, arrivo Tu l'ha messa pure loro, guarda Te ne metto una pure qua Quante, quante Vard Troppe Vard Sì davvero È illuminata la festa, bene Che gli archi è nel braccio Questo qua, davanti E Leona è lì, eccola lì, c'è anche Jinx Oh cavolo, c'è anche Evelynn Merda Eh, merda Eh, merda Ok, 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 no, 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 che sono Ci fa perdere tempo, Evelynn Oh, la mid, la mid Cadde la mid Eh, vabbè, andiamo a prenderla Il Drago è nostro, vero? Si Ah, buona Ma che faccio, no, è grande Come non lo so Però Dai, facciamoci la tramite La smiteato Ah, meno male, brah Bravo Ehm, non vai a tancare io la torre Ah, sì, vigno Ah, no, dov'era? Sì, l'indietro, ah C'è la TerraBot La TorreBot ovun'è andata, eh? Sì, l'altra TorreBot Ah, la nostra TorreBot, ok Come è la storia? Eh dai, pushiamo tutta la bot Io sono pronta Sarà, vuole il Minion, vuole i miei Minion Non ti amo Il mio Mi... Sì, il mio Minion Ah, i miei Minion Oh, sei anche un livello più di me, cosa vuoi? Mi hai raggiunto Queste le ki che ti ho regalato Jinx, Jinx C'è parte delle super che fai a un centimetro di distanza Chi? Tu, per sicurezza Ah, no, no Sì, più o meno Uh, ho stannato Leona Di qua Qua non c'è più nessuno, eh, ragazzi Leona è G Oh, c'è Leona che sta tornando Vai giù, vai giù, vai giù Non mi prendere, non mi... Oh, cazzo Siamo nella merda Non esiterò Sì, sì Sì, sì Ho il super scatolo Oh, cazzo Oh, cazzo Guadagno... Il 50% in più Il 50% in più No, devo scudarla No, devo scudarla Nooo, tanto togli la super GX? Dai, è imbarazzante però E' davvero Ma ti metti una fortuna tantissimo Cavolo, ce la fai a tenere là? Per poco Con poco perché non so Un po' no E' andata Nooo Questa mano è finita Questa GX ha troppo kill ha, tío Quanto ne ha? 8-2 Porca madre Andiamo un Kha'Zix Cerciamo un Kha'Zix No, se ne sta andando Non è così stupido C'è il Blue! Mi dai una mano? Mi rata pure, aspetta un attimo Va bene Mi salta però, eh Andiamo a sperare il Super Master GX è andata dal Drago Vieni, vieni 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 No, vieni in zona Drago No Lascio, lascio, lascio Grazie Avanti Comprate il Trinket giallo, mi raccomando Non vediamo Evelyn, ma vediamo gli altri Ah, quello più potente, dai Qui Bestia! Occhio alla mid, eh! Togli però, eh! Eh, si Togli e le togli Sì, quanto più hai? Sì, la mid, ragazzi Andiamo al mid Sì Perchè voglio guardare qua C'è un gruccionino Facciamo il giro... Giro stretto, dai Giro sicuro Sì Abbastanza Uri, uri, uri Abbastanza per un cavolo Nooo! Ci hanno inculato alla grande Altro che balle Ah, non riesco a uscire Ciao! No, no Vabbè, si sono più su di me di noi Sono sempre in trash Sempre allerta Meno male che era il giro... Il giro... Il giro sicuro Il giro sicuro Infatti, le ultime parole famose Bella Dove l'avere anche guardato questo pezzo Che parlo, non c'è il stampione invisibile, madò Non esiterò Eh sì, però Leona... Tanca, tanca Leona... Cioè, in bot, in bot, in bot Leona è la tua, che è Non lo taglio giù più Occhi, Agnaro Si è presa la chiudere Nostra, eh? Segui, segui Relia Lei sa cosa deve fare Eh sì, perché stai arrivando a dare una mano No Brava Sara No, no No, rubagli la kill Sara, hai fatto benissimo Per sicurezza Ma rubagli le kill, che ti freddo Mi hai fatto bene Ti ti uccidiamo Otto Jinx Vuole... Ma è nessuno, c'è dietro cosa? Porca puttana, porca puttana Ma è morto Eh vabbè, eh vabbè Chi è che è stanca? C'è Irelia di sicuro Tra le tre Ah, c'è Irelia C'è Irelia, c'è Irelia Bravo Non lo prendete più No, se lui sta fatta la parte sbagliata No, no, non so Ce l'ha già di difendere la torre top E anche la bot Oddio bot Irelia sta andando top Questo di sicuro è il giro sicuro Drago ragazze Eh andiamo Eh andiamo Andiamo dalla bot Scusa lì Scusa lì Scusa lì Minimo, minimo Ci sta anche a Avellino Invisiglio ormai Sì sì Esatto Lo ruberò da più con la potenza della mia Q Giustizia ci guida Amumu vuole fare la super gun iniziale Ha mancato la Q No, no, l'ha presa Ma perché Amumu? Quindi ha giocato l'ultimate per un cazzo? No, no, l'Umu, no Aia, che male No E' andate Ehm Scusa lì 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 Vai Amumu Dai Drago e Pemilio Finiamola qui Oh beh, i draghi però Tutte le torre stanno avendo fuori I draghi però è una grande Non so se è un pro o un beneficio Riusciamo a farci un'altra torre? Quale? L'altra amica? L'altra amica? No Un'altra amica? No, ti invito Non sono messi? Non esiterò Sì, no, andate indietro che stanno arrivando Ma la vista scende così tardi Ma che non sono qua l'idea Sì, sì Ehm, più che altro Revenue Sì Ah, ma è essere il bot Ma scottinci F***a com'anto cazzo corre 3, 2, 1 Mordo No, la torre per uno sputo Vabbè dai, la prossima volta i minion la tirano giù C'è non c'è nessuno Era meglio retrarre quella Jinx Sì, comunque i minion la fanno fuori dai Che Jinx è... oh! Jinx è che ha Zix mid Vieni qua! Vieni qua! Guarda Sara! Guardala! Va 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 Qua ce l'ho fatto qua Guarda Sara, se non si curava Jinx No, non lo prendi più Attento che sta vindo su Occhio, occhio Eveline è Mindo No, no, attenta, attenta, attenta Sì Luca vengo dietro di te Eh, Eveline è... Eveline è mid Sì, sì, no, ma tranquilli Non teniamo la mid o andiamo su... No, da te sulla mid, dai, tranquilli Io ripuscio, non è un problema Sparita ancora, ma che falle Eccola qua C'è una cosa che ci ha insegnato Che andarla a prendere di sicuro porterà bene Sì F***a finiremmo in un gank a cazzo Non tu, non tu gris No, 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 no C'è lei ora che sta scendendo, eh Hai grido di me ne frego Sì, non è arrivato, no Sara si sta Mi lasciati indietro, mi ha paura Dirlo a me Oddio, mi sciatta, no Non c'è neanche la torre Mamma mia No, via, 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 sono qui Ho paura No, quella guarda non vale la mia vita Ah, è vero che adesso tu c'ha... A me mi vede tutto, eh Ok, non vede più tutto Non mi sto spaventando In questa caso, almeno uno lo porto con me In questo caso, almeno uno lo porto con me Sono spariti ragazzi Eh, need Realmente li abbiamo spaventati Ah, come non detto, sono ancora bot Dai, gankiamo Gnaro No, non riesce a gankarlo C'è lì a Mumu F***a, io li voglio trovare a Mumu Guarda la bombetta! Eh! Gazzacola! Dicata che la bombetta è in Vard! La Vard è lì al posto che... Ooooooooooooooooooooooooooooh la posso... Dai! Andiamo avanti, Mumu! Vai 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 vai! Che la beccola, 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 beccola! Va vaffan! C'è Eveline! No Eveline è posto Punto accettiamo Vai Jey Sasso Sì 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 Sto andando in top Perché sennò così si fa Presa Vero lo preso Sì lo preso F*** Ho tirato Un colpo veramente Recall Certo Ce la fa? Recall e puscio tutta la bot Certo scappare Voi hai tirato giù la torre in mid? Sì certo Quello ha uno scuro di mid Non ti incazzare questa Sì Ok Eveline ho preso esatto Guarda guarda Sara è impazzita No Stai dietro No tu gridi No tu gridi Ma che qua manca cosa Kha'Zix Anche qua No Sara vieni con me Sara non mi lasciare solo Sara Sara Io sono uno scuto No tu Ti sento pure fuoco No c'è Eveline e Gnare Sei giù Sento che la vi aggiunto C'è anche le una Porca Sono tutti qua Sara Non vai Sono ancora lì? E tu? Dove sì Dove sì c'è anche le una mid? No stai ritrando No 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 Ti dovesse recollo È vero Sara no Sto io entrando No Ci stavo provando Sarà top da fare cazzo Sara non si ferma di un millimetro Non esso Il problema è che Sara fa così anche con i support Cosa? Non arretri mai Ma sai perché? Perché quando stavo con le stracca Ecco stracca ti vedo Cosa fai? Un miss Miss Perchè il vostro Mumu? Io ho paura per Mumu Che si fa Eh poi Eveline È arrivata Eveline Blu C'è anche gli altri Il drago ragazzi 15 secondi Eh Mumu però Mumu però Mumu muore male Il muore Mumu Trovo c'è Kha'Zix in top Quindi Eh ma qui ce son tre Eh lo so Problema anche se Kha'Zix Vai vai fatemi il drago Il drago Veloci Ma porco Ero cane ma rimorzato Il drago ragazzi Il drago Il drago Potevi il drago Il drago è morto Luca È morto Ricalla per But of the Kha'Zix Oh cazzo No no Luca 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 Trollala! Trollala! Non dici che muori, Luca, vero? Ok, poi mi sono salvato almeno. Ok, non mi vedi più, vero, Jinx? Finché non torno in base, ma sono... Mamma che provata! Non per Ruan! Ti fa anche un trash così di stile! Per sicurezza. No, no, stiamo insieme, stiamo insieme! E caliamo insieme! È vero che tu hai paura da girarci in zona di lei, eh? Anche ci facciamo un po' di bot! Ando io a prendere il rosso. Ti prego, fa quello che dice! Raggiare in bot, in top, com'è? Male. Sì, abbiamo difficoltà a prendere obiettivi che non siano il Drago. Drago 4 su 4! Cavolo, no, sono morto! Merda, arrivo, 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 arrivo! No, guarda che salto ha fatto! No, 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 no! Corre, Lu, corre, Lu! Grande, Lu! No, sono morto! Ti ha zappato! Eh, non ho calcolato... Merda, mi fa malissimo! Mi fa malissimo! Vediamo troppo tardi, sono arrivato! Mi fa malissimo! Eh, lo so, ma ho pensato di dare una mano da lontano! Ho cercato uno zappo! Non ho calcolato lo zappo! Eh, adesso io devo stare qua! Eh sì, abbiamo... Mi... Su Jesus che si lancia! Eh, sono qua, lo so! Eh, che anche i mid avevo disegnato! Eh, perché sono mid, si sono divisi, De Amire! Non lo so! Ahia! Eh, lo so! Meglio difendere questa che la mid! Questo... Sì! Vado io in mid! Gnara non c'è più! Non so se sta tornando! Eh, mi è mid Gnara! Perché ormai... Ma... Macinano... Minion su minion qua! Occhio! Occhio! Occhio che siete soli! Occhio che siete soli! Non c'è nessuno! Ho sbagliato lo ultimate! Dificati! Si vede sulla mappa la tua ultimate! Lo sai? Sì! C'è una... Cosa sta facendo? Cavolo avere lo ultimate adesso! Sì, è stato bello, eh! Vaffanculo! Non c'è nessuno! Dimenticcio stare! Attento a te c'è Leona! Occhio che c'è Jinx dall'altra parte! Sì! Sto arrivando! Sì! 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 Però il problema è anche... Sì! Sì! Torniamo, torniamo! Perché se stai è una abbastanza iniziativa non va abbastanza male! Sì! È quello che ci spacca! Occhio che non c'è! Non siamo buoni! No! Allora sono full! Eh! Back! Back! Sì, torniamo, torniamo. Io guardo un po'. No, questa non so permetterla io. Io guardo il Baron per qualche motivo scuro. Sì. Io mi faccio la turno da sola. Mi draggo tra un minuto e vento. Ma dove vai? Non fai io, non fai tutto bene, tutto bene. Non abbiamo niente da fare. Giusto, questo sia un obiettivo. Ho la turno da Sara. Top, 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 dai che andiamo top. No, è scattato. Le Bard, ragazzi, le Bard. Perchè me le mettono prima loro. Dattemi il tempo. Io seguo Abumu. Io seguo Adriel. Ha visto Jinx? Oh, c'è Jinx, c'è Jinx. Zappa tutti. Trappolozzo. Trago tra un minuto, è vero. Cesta torre, poi giù, veloci. La presa, la presa. La presa. Nooo. No, le collo, le collo. Le callo. C'è la mista e il Drago. Ma sono stupidi che non ci tengono qua. Ah, sono in 3. Ce la fanno subito, però. Bravo, Luca. Sì. Eh, dai. In 3, ma ve lo stai. Beh, lago? Sì. Però adesso c'è l'individo scoperto. No, tu ci servi. Tosto resterei io. Mi servo anch'io. Sono quasi fondamentale, per dire. Grazie. Dai che se lo grab... Lo grab è fatto. No. Ma no. E' per Gnara. Schivare Gnara. Filiatrissimo. Non pettatemi, ammicicci. Non ci servi. Grazie, Jinx. Bella. Davide, possiamo prendermi obiettivi. E' quinto Drago, eh. Bene. Usciamo, prendiamo obiettivi, sentiamo il vantaggio. Cosa? Tranquilla, Sara. Tu, qua, la tua vita è più della mia messa insieme. No. Sì, va bene. Oh, oh, oh. Cosa prendo come oggetto... Un altro oggetto da danno? Ho già il Gladio dell'Infinito, il Gladio del Massagro, il pugnale di Static. Le due spadine rosse incrociate ce le hai? No, ho il pugnale di Static. Prendo anche le spadine rosse incrociate, eh. O sennò ho la lama del re rovino. Stiamo per morire tutti, basta. Allora prendo la lama del re in rovina che mi piace di più. Non ce la faremo. Lama del re rovina se non hai niente ki-life, ki-life, ti serve. Ho preso la lama del re in rovina. No, 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 porca miseria. Quanto gli hai tolto? Vai, Luca. No. Ok, c'è giusto. L'hai preso, Luca. L'hai ucciso. Ma quando? Con la bombetta rimbalzante. Vai, Luca. Cavolo no. C'è Evelyn. C'è Evelyn, c'è Evelyn. Ti ho visto. Facciamoci il bar, non è te, Luca. Mi arco. Attenzione, attenzione, ragazzi. Io ora è caldo, eh. C'è cosa in boom? Si fa la torre in top. Ok, andiamo su di lui. Andiamo in bot. Si. Faccio il giro sicuro. È vero. Uh, ce l'ha fatta. Bene. Bene. C'è anche la mid. Stiamo pushando ovunque. Si, ma non è stretta più in mezzo a fare niente. Cavolo, cavolo, cavolo. Niente, niente, botta. Si, si, infatti. Ognara. Si, 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 si. È vero che abbiamo l'inibito scoperto. E se lo fa, mi sa. Dai, veloci. Se lo bloccate... Si. Posso provare. Che scappa dal lato giusto. Goal, mi hai fatto flashare per un cazzo. Anche Luca è tutto l'ultima in tutto e niente. Si, ma io 60 secondi mi piglio. Si, si. Il flash mi piace un po' più per malità. Io non torno più in base, non mi serve. 1.100 di gol. Vai, Sara. No, non fa... C'è anche Leona dentro. Il drago sta finendo, eh. Almeno, si, si, dai qua che c'è Evelynn bot. Ah, no, no? Si, loro sono uno in meno. Non hanno ogniare, Evelynn in bot. Sì. Vai, vai, cominciate, cominciate. Uh, ci ha provato a farcela. Ragazzi, io mi devo teleportare in bot perché sennò... Oh, no, fermi colpa. Sennò d'深. Sennò d'深. Sennò d'深. E si, perdi. Sennò d'深 non c'è più. Fatemi vicino, fatemi vicino... Ok. Ancora. Può farlo tre volte. Potrebbe essere venuto a scing. Everelynn eh. Sennò piatto. Cavolo no. C'hai provato a uccidere, eh? No, bastardo Recagliamo, recagliamo, recagliamo C'è tutto in bot, d'acqua C'è il recal fast Vado a prendermi il... Sì, 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 sì Sì, sì, vai, c'è la torre in mezzo Sì, ce la fa, ce la fa! No, non ti devo salire No, non ti devo salire Good job Mid Primo mid Ah, 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 c'è Gnara Un nemico è stato ucciso E questa l'ho uccisa io LOL Oh, ragazzi, sono in meno Pushate, cioè, andate proprio a prendere Lo sfondare Cioè, adesso c'è solo Evelyn E adesso arriva anche Leona Il prossimo è 36 Ok Stavo sfondando Perché sono davanti io, indietro te? Eh, perché è giusto che deve essere così Vai, anche l'inibito Ah, c'è Evelyn Eh, ce la fate, ce la fate, no? Sii C'è anche Leona però Non state vicini, che se no Leona vi fa l'ultimo E' appena fatta in teoria Non muoio E anche io non cazzo Ok, si metto la build Anche io sono morto Eh, ma hanno due stun Hanno due cc Io ci ho provato con leona Anche io ci stavo riuscendo Perché l'ho curato, l'ho scudato Non conosce sconfitta Ho perso il mordente Vabbè ci sono fatti torre inibitor Dai Adesso se a buco non si fa a massacrare male Cavolo, cavolo, cavolo Reggiamo Reggiamo in base, si fa gli inibitor Reggalla, reggalla Perché non li attaccono i minion? Si è messo in una posizione infame E il minion in realtà che non si fa fuori i inibitor Il tuo inibitor è stato distrutto Oh, appena in tempo 20 secondi, Luca Eh, non mi voglia Vieni qui Io sono il nostro Senti, 18 secondi Oh, c'è l'altro dragon Eh, lo so, ma sei da solo Guardi le angel e tiro giù Erika, aspetta Che fatica che hanno fatto per ammazzarti Ma che caracca Ma che caracca Ma che caracca è tancosissima, eh Vado sul drago Anch'io, anch'io Ma lo vuoi? Anche non così? Si, ma sa che lo fanno in fretta Però, eh Eh, si, si Sanno che è il nostro quinto drago di nuovo Non possiamo No, non l'hanno fatto Ma è il nostro quinto drago di nuovo No, che cosa sta facendo Ma perché? È pazzito È impazzito È impazzito Ci muoio, sappiatelo Vai, 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 vai Luca, vai, vai Che faccio l'ultimate Vai, vai, vai Fagli male Fagli male Che faccio l'ultimate Oh, buon cane C'è Gnara 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 forte L'ho preso, l'ho preso Non gli fate danno Non gli fate danno Non gli fate danno Il drago Non gli fate danno Siamo qua Quinto drago Funtiamo la bot, Marco Arrivo, arrivo Cosa? Lasciami guardare Ho c'ho l'unità di minio Ok, diciamo Non voglio sorprese Però se resisti abbastanza No Che cazzo gli hai fatto Che li hai ammazzati tutti La mia acqua è fortissima Adesso Te l'ho detto Se non moristi Come uno scricciolo Ok, dietro Che avete Leona Dietro? Dietro, dietro Sì, eccola lì Eh, ciao però, eh Questo è accanimento però In tre cazzo Niente Eh, eh Carme è troppo fragile Quella è senza rune Non è che il call diventa un tank, eh? Eh Potremmo farci, eh Combattutissimo questo partito Siamo in un minuto Siamo morti Cosa? In un minuto siamo morti Io e due Oh, c'è nevi Il Baron Torna tra un minuto e quaranta C'è da difendere La determinazione Non conosce sconfitto Ma la botta è pusciata La mid è pusciata Ma la ripusciano indietro loro La botta Sì, sta venendo Comperata Avanti Io c'ho ancora 20 secondi Devo aspettare Eh, perché tu ma li chiudi in me Ma no Uccidere me Non da goal Praticamente Occhio che sta venendo Scusate La giustizia ci guida Non sono anche a fare il tempo A fare la zona E' altrimenti Sono sotto cc Un minuto e il Baron E loro hanno pusciato Di brutto qui Adesso Tutti i mid Tutti i mid Anche i bagazzi Sono sotto i nivitor Oh cacchio Oh cacchio Ti salto a bacio Perché si lancia Vai Luca Ciao Luca No niente Lasciamo stare Io sono qui giù di vita Ti fa malissimo Vediamo l'inibitor Pensavo al baro Eh in effetti Facciamo il baro Facciamo l'inibitor Io sono giù di vita In una maniera porosa Ce la fate a fare l'inibitor? Sì Sì C'ha un monitor Sì Eh perché c'erano No è tank È tank Non è tank Non puoi dire indietro A Sara Non lo capisce Non lo capisce No è tank Torre Torre No Baron Baron dai Baron È tank Evelyn Non lo tirate giù Sì sono tutti tank Leona Zinx Mi chissate di tutte Ma che cosa vogliono? Ah Bestia Che figata Siete cinque insieme Dobbiamo pushare una lane Vengo in bordo Sì Ok Sarebbe dare a difendere la mid Sarebbe Beh io ho il teleport nel caso Ho il teleport Però oddio Se passano all'inibitor Poi cerchiamo il fight Ma che sto così arrogante io? Se sto così avanti No sono proprio non di me Mi rende Sono venuto e venti al drago Baron Guardo il drago In particolanza Occhio che sto vivendo su Eeeh La Minimite La minimite La minimite Porca mi Ti diamo lì da dietro Luca Vai Ti viene dato? Ecco Qua sotto E qua sotto E qua sotto Eccola È invisibile No Presa E' in quattro Per farla fuori Niente Ma Ho tirato anche l'ultima Ho tirato E' ha fatto male a tutti Peraltro Ha usato l'ultima? No Io ho usato l'ultima Per farla fuori La bomba muore Guarda eh Uo Stento Cazzo Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando Ti salvo Ti salvo Vuole me Vuole me Dai Sì Con l'out attacco L'ho ucciso Uuu È fredda Potevo fare doppia Dannazione C'eropone Ho anche il blu Lo sono sui C'è KazX top Sì sì ma lo difenderei Io V dispersed Oppure anche il drago Quinto drago Dai Spediamolo Ma quando è quinto Drag DO Sì sì Noi pushiamo quá Che C'è ancora KXX E KazX Ecco qua che ci aspetta KazX E Z Bam Vabbamia! 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 Vabbè! Ah, era la super? Non l'ho vista io! Cioè, è vero? Cioè, mi ha fatto tantissimo male che penso che fosse stata la super! Dà! Vabbè, vabbè! Vabbè, vabbè! A me non mi prendi! Vabbè, siete morendo o state vincendo? Morendo! Morendo! Ma cosa è che non è? Ma è brinna così poco, tannazione! Vabbè, inti reno! Vabbè! Vabbè! Per ca' questo uno contro due Elia? Perchè olduğunu sapere! Forseず! L'ha presa! Però ce l'ho! Vabbè! Sera può tenere il team impegnato per tipo 30 secondi! Da sola! C'è... Si mette lì da sola! Oh! Nooo, si fa l'inibitor! Ancora Che palle Gnara Gnara è uno dei più bravi È quello che ci ha creato più problemi all'inizio Anche perché torna in vita Si trasforma sempre al momento giusto Perché è bravo a A dosarsi l'attacco E lui che gli ha tirato 100 pozioni per farlo cuore Si Mi serve un po' più di Mi serve più velocità Ah prendo il rosso nostro Arriviamo Oh ma ci saranno fatti tipo 6 draghi E due baron Allora non ha fatto niente Cioè poi ci danno fastidio No la mid si è vero ho appena rispondato Si si ho sentito Era il consiglio Stavo ripetendo il consiglio di Sara Cioè andare in mid? Si Si ma io vado Bot Cioè top scusa Top perché c'è No no ce la facciamo solo Eh io può guardare Ok Però Kzix è andato via sappiatelo Eh top Ma non è qua Kzix Ma sono in tre mi pare Di qua Ma Amumu è tank o no? Amumu è tank Però è anche È anche shottabile Molto azzardopolo Ehi 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 Oddio Kzix sta salendo Ti ho saltato Per la seconda volta Con quello scudo La tua vita è mia proprietà ormai Alla Alla C'è solo Evelyn Dobbiamo vincere Mi fa giocare mezz'ora gli scontri Il cara Ti fa giocare mezz'ora gli scontri Ti è che è tanka? Io Io sono pronto Nel suo lettore sono tu C'è solo una torre L'Asia Nord Vittoria GG Reggio ancora un po' Reggio ancora un po'